Ferrara ha ricordato Carlo Bassi, architetto e scrittore, ma soprattutto una delle figure di spicco dell'ambiente culturale italiano, scomparso poco più di quattro mesi fa. L'iniziativa si è tenuta a Palazzo Crema, alla presenza di istituzioni, enti, ma soprattutto tanti amici che hanno voluto rendere un sentito omaggio alla sua figura. La figura di Carlo è una figura che abbiamo ricordato nel 2013, fortunatamente quando lui era ancora tra di noi e lo abbiamo insegnato con un riconoscimento che è quello dell'ipogrifo, proprio a testimonianza del contributo non solo tecnico, ma soprattutto per la passione civile che lo ha sempre contraddistinto e anche per il contributo straordinario di carattere culturale che ha dato nella lettura proprio della nostra città. Tra le amicizie di Carlo Bassi anche quella con Giorgio Franceschini, padre di Dario e Flavia. Avevano creato insieme due giornali, il primo addirittura ciclostilato, si chiamava Juniorismo, il nome era stato proprio inventato da loro e da mio papà in particolare, e poi il secondo invece incontro era un giornale già più complesso, un mensile che ospitava nelle proprie pagine tutti gli interventi storico, culturali, artistici degli intellettuali dell'epoca. Quindi partendo da quelle origini antiche di amicizia, poi è un'amicizia che è continuata anche se separata dalla distanza tra Ferrara e Milano. Con il professor Gianni Venturi ebbe un rapporto di lavoro che ne fece emergere le qualità. Mi ha svelato in Carlo questa sua poliedricità di conoscenze e di capacità di riportare tutto a quello che è la prima tra le muse, cioè la parola. Il fatto che i suoi libri, oltre le sue grandi produzioni architettoniche, esprimono una visione del mondo in cui la bellezza è il senso più alto. Noti i contributi che Carlo Bassi diede a Chiese e Spazi Sacri. Io ho particolarmente fatto riferimento allo spazio sacro, cioè in particolare agli interventi che Carlo ha fatto a Ferrara. Due in modo particolare mi sono soffermato. Uno è quello della Sacrestia, della nuova Sacrestia, e quindi anche la testimonianza di Paolo Baratella con i suoi dipinti. E l'altro è la chiesa del Beato Giovanni Tavelli da Tossignano. Presente all'incontro a Palazzo Crema, anche il nipote Filippo Govoni, tra i progettisti della nuova palazzina Exmov, che ne ha seguito le orme. Oltre a un rapporto familiare, abbiamo avuto io e Carlo anche un rapporto professionale, perché in un qualche modo io sono stato il nipote che ha seguito la strada professionale di Carlo. E questo è stato di grande aiuto e di grande sostegno in tutto il percorso mio, prima dell'università e poi della professione. Grazie. 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 Grazie.